Io non ho mai detto che avremmo affidato esclusivamente all'analisi costi e benefici, non ho mai detto la decisione finale. Ho espresso forti dubbi e perplessità sulla convenienza di quest'opera infrastrutturale. Personalmente, dopo averla studiata, dopo averla sviscerata in tutti gli aspetti, non sono allo Stato affatto convinto che questo progetto infrastrutturale sia quello di cui l'Italia ha bisogno. È un progetto che è stato realizzato decenni fa, è un progetto che se oggi dovessimo cantierizzare non avrei dubbi, mi batterei perché non sia realizzato. Da una parte c'è la Lega che è favorevole al TAV, dall'altra c'è il Movimento che invece ha delle contrarietà rispetto a quest'opera infrastrutturale. Questo ovviamente crea oggettivamente uno stallo. Dobbiamo proseguire alla luce di ciò che è emerso. È l'unica strada e me ne assumo la responsabilità. Credo che sia d'obbligo procedere ad una interlocuzione con i partner di questo progetto, Francia e Commissione europea, per condividere questi dubbi e queste perplessità. Non stiamo affatto litigando, però siamo in uno stallo anche sui bandi, perché è evidente che chi chiede il differimento dei bandi rivendica come da contratto una integrale ridiscussione. Perché è chiaro che se partisse lunedì il bando, quella integrale ridiscussione di quel contratto non ci sarebbe. Ed è chiaro che su questo scioglieremo la riserva nelle prossime ore. Guardi che sono lunedì i bandi, dateci il tempo, ci abbiamo qualche tempo. A me tocca fare una sintesi. La posizione, ma voglio dire, più che l'onore, la responsabilità, l'onere di prendere in mano la situazione, tocca a me. Andrò io e rappresenterò, sono molto confidente, l'intero governo.